Buonasera a tutti da Roberta Feliziani e bentornati a questo appuntamento in diretta con Italia Città Aperta, staremo insieme tre ore dalle 21.30 fino a mezzanotte e mezza per raccontarvi gli argomenti, i fatti importanti della politica perché questa settimana ce ne sono stati diversi, l'ultimo è quello di ieri, però prima di entrare nelle particolari salutiamo il nostro opinionista Antonio Rabbia, buonasera Antonio. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. E poi abbiamo in redazione Lorenzo Petrucci che tra l'altro è anche addetto in RVM e video oltre che comunicati stampa e anche Ludovica Iacovacci sempre dietro delle telecamere e poi in regia Lorenzo Rocchi e Ivano Di Gianvito e abbiamo il piacere anche di avere in studio con noi il direttore artistico Daniele Paglia. Allora Antonio hai visto c'è stato un passo falso sul DEF, tutti i giornali hanno titolato in maniera molto negativa questa convocazione che è stata fatta alla Camera e purtroppo è andata deserta perché non c'era il numero legale. L'opposizione ha esultato, la Meloni ha detto abbiamo fatto una brutta figura ma lo approveremo, infatti è stato approvato oggi, la maggioranza è ripartita, la Camera ha approvato il DEF ma c'è stata una bagarre in aula. Vediamo nel servizio cosa è successo. Ricordatevi di Prodi 2008, colleghi, colleghi, onorevole Foti, colleghi, onorevole Foti, onorevole Foti, colleghi, ripristiniamo la calma in aula, cortesemente finiamo, facciamo procedere l'onorevole Foti fino alla fine, per cortesia abbiamo tutti avuto la possibilità di esprimerci, per cortesia onorevoli vi ringrazio. Prego, riprendo l'onorevole Foti, grazie. E aggiungo, signor Presidente, che vede c'è anche un aspetto che sempre sotto profilo istituzionale noi dobbiamo porre in quest'Aula. Perché non ci piace che chi ci viene a dare lezioni di istituzioni, guarda caso proprio ieri, abbia scelto l'Aventino in Commissione Giustizia solo perché si è rappresentato il sottosegretario del Mastro, nel pieno delle sue funzioni. E aggiungo di più, e aggiungo di più, dopo... Onorevoli, 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 scusate, scusate, colleghi, per cortesia onorevole Foti, le chiedo di rivolgersi alla Presidenza, mi capirà, lei conosce bene il regolamento, onorevoli non si può rivolgersi all'onorevole Foti. E è andata avanti così la votazione fino a che sono riusciti a raggiungere il numero regale ed è passata, però diciamo ci sono stati i cori di proteste in Aula e anche Angelo Bonelli dei Verdi è stato colto da malore. Insomma una giornata molto particolare quella di oggi e ci colleghiamo subito a proposito di Europarlamento perché dovremmo sapere questo BNRR, questi 196 miliardi che devono essere spesi per cercare di risollivare la situazione italiana. Vediamo a che punto siamo. Allora ci colleghiamo con l'onorevole Matteo Adinolfi, aeroparlamentale della Lega Gruppo ID. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Allora onorevole, questo BNRR è a rischio nel tanto che sono stati già presentati dei progetti ma sembra che non siano a norma e quindi molti sono stati scartati, però noi abbiamo dei tempi di tecnici molto stretti per riuscire nell'intento altrimenti rischiamo di non poter spendere questi soldi e di perdere questa grande occasione. Come stanno le cose in Europa? Che sta succedendo? Beh, innanzitutto riepiloghiamo come è andata la vicenda. Noi sappiamo che post pandemia l'Unione Europea ha messo a disposizione oltre 200 miliardi di euro, 220 miliardi di euro a disposizione dell'Italia di cui sono 160 debiti da restituire e circa 40 errotti come somme che sono a fondo perdute. Queste somme sono state ottenute chiaramente dal governo Conte che aveva semplicemente trattato gli importi con l'Unione Europea. Subito dopo il governo Conte doveva presentare tutte le varie progettazioni da utilizzare per l'impiego di queste somme. Ebbene, queste progettazioni erano molto carenti e questa cosa è emersa anche durante un incontro che abbiamo fatto come Commissione Europea la Commissione Controllo di Bilancio di cui faccio parte nel 2022 a maggio ha fatto una verifica agli organi deputati al controllo del PNRR e quindi abbiamo fatto una visita al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Comando dei Carabinieri, della Polizia di Stato, al MEF, Ministero delle Finanze, Ministero del Lavoro ed anche alla Procura della Repubblica, in particolare alla DDA di Roma. Questi sovronloghi sono serviti per capire un attimo gli organi in che modo avrebbero controllato quindi gli enti e lo Stato che doveva spendere queste somme, ma già in quella fase era emersa chiaramente che molta della progettazione che era stata presentata dal governo Conte era carente di studi dettagliati, quindi erano stati semplicemente messi nel PNRR per raggiungere la somma da spendere. Questo è emerso con tutta la sua gravità in questi giorni, in quanto quella progettazione è dovuta innanzitutto le somme che erano state stanziate erano basate sui costi di produzione che erano post-Covid, precedente alla guerra in Ucraina quindi noi abbiamo visto che c'è stato un incremento pazzesco dei costi delle materie prime e questo ha comportato anche il fatto che molta di quella progettazione non è più attuabile proprio a causa dell'aumento dei costi delle materie prime ma anche perché molta della progettazione non era completa, non era sufficiente proprio per andare a cantierare queste opere quindi in questo periodo l'attuale governo sta rivedendo tutti i progetti e secondo lei ce la faremo? Ci siamo con i tempi perché la preoccupazione è tanta Innanzitutto anche già la Germania ha chiesto di posticipare i tempi e l'Unione Europea è andata incontro alla richiesta della Germania quindi ha concesso maggior periodo anche l'Italia ha chiesto queste cose all'Unione Europea, c'è una trattativa in corso sicuramente la terza tranche arriverà, questi 19 miliardi di euro arriveranno anche perché l'attuale governo sta rimettendo a posto tutta la progettualità eliminando chiaramente i progetti che non erano produttivi perché ricordo a tutti noi, a me stesso innanzitutto che 160 miliardi è un vero e proprio mutuo soldi che devono essere restituiti quindi le opere devono essere fatte, devono essere produttive ma alla base del PNRR ci sono anche una serie di riforme da fare che lo Stato italiano deve fare la riforma della giustizia, della scuola, della sanità quindi in questo periodo c'è un iper lavoro del governo per le riforme che devono essere effettuate e soprattutto per completare la progettazione E anche il Parlamento Europeo continua in fermento a lavorare perché abbiamo visto che è un continuo che sta lavorando affinché questo venga attuato E certo, anche in Unione Europea c'è il lavoro chiaramente di tutto il Parlamento Europeo ma anche della Commissione in questo periodo quindi c'è questa trattativa in corso e i tempi sono molto molto stretti. Una cosa buona che invece è stata fatta dal governo italiano in particolare dal Ministro delle Infrastrutture Salvini è la riforma del codice degli appalti e la riforma del codice degli appalti chiaramente che aveva comportato una serie di ricorsi per quanto riguarda le varie opere precedenti, con la riforma del codice degli appalti sicuramente saranno velocizzate gli appalti e soprattutto le opere e quindi come governo sicuramente saremo in grado di chiudere i vari cantieri in tolle date prefissate e soprattutto sicuramente l'Unione Europea andrà incontro alle esigenze dell'Italia perché sono esigenze oggettive e la progettualità, ripeto, non era completa soprattutto c'è stato l'aumento dei costi a causa della guerra in Unione Ucraina Bene, allora ce la faremo un messaggio ottimistico onorevole a Di Nolfi anche perché c'è in gioco il futuro del Paese tra l'altro è stato tolto il reato di abuso d'ufficio all'interno dei ministeri proprio per levare quel senso di terrore nel firmare i progetti che si aveva e che si ha attualmente quindi togliendo questo reato si pensa che ci sarà una maggiore snellezza nell'approvazione poi di tutte le burocrazie e gli step che sono necessari per poi arrivare all'effettuazione azione Per esempio in Italia con il ponte Morandi abbiamo dimostrato che siamo stati in grado di costruire un ponte con un anno quindi anche là con il commissario siamo stati in grado quindi non c'è bisogno di nominare i commissari ma c'è bisogno solamente di sburocratizzare l'Italia svelocizzare il codice degli appalti e mettere in opera iniziare i cantieri chiaramente anche gli amministratori locali devono essere messi in grado di operare Bene, grazie onorevole Adinolfi ringraziamo l'onorevole Matteo Adinolfi ricordiamo ero parlamentare della Lega del gruppo ID per averci dato questi aggiornamenti importanti grazie e buon lavoro onorevole Grazie a voi, arrivederci Arrivederci Allora, e adesso visto che i registi sono due sono anche bravi sono tutti bravi velocemente ci colleghiamo con l'altro ospite l'altro ospite è tutt'altro argomento perché parliamo di salute e parliamo di alcuni aggiornamenti che starebbe facendo il Ministero della Salute in vista dell'inverno Allora, ci colleghiamo col professor Massimo Ciccozzi epidemiologo dell'Università Campus Biomedico Buonasera, professore grazie per essere con noi Buonasera Buonasera Allora, professore queste linee guida che sembra stiano partendo con grande velocità per quanto riguarda il Ministero della Salute perché c'è questa necessità di riaggiornare un pochino quello che era il piano vaccini per quanto riguarda il prossimo inverno e in questi c'è compreso anche vaccino anti-covid secondo lei c'era la necessità di questo aggiornamento? Ma sì, un aggiornamento va sempre fatto va fatto perché e andrà magari anche ritoccato dipende dai dati che noi avremo questa estate insomma intorno a settembre, agosto-settembre sui casi di contagio da covid ma non dovrebbe succedere niente quindi probabilmente quello che stanno facendo adesso avrà valore anche dopo l'estate perché le varianti non la variante le varianti che stiamo osservando ormai da più di un anno sono sempre più deboli dal punto di vista della sintomatologia e quindi dovrebbero darci meno noia e poi vedremo a chi va consigliata effettivamente poi questa dose booster perché è una dose di richiamo non ce lo dimentichiamo mai questa dose booster se va data alle persone molto anziane alle persone fragili come io credo che sia Senta professore per quanto riguarda il covid purtroppo continuano ad esserci e adesso c'è questa nuova variante che si chiama Arturo nome bizzarro però così è stato scelto un nome bizzarro dico io vorrei non dire altro Allora non è che gli aspi erano meno bizzarri eh veramente Krakhen cioè mettevano anche paura no? Ricordavano ghost storie antiche Allora questo Arturo è sempre della famiglia Omicron oppure stiamo ritornando al Delta? Assolutamente no e non credo che ritorneremo mai al Delta l'evoluzione fa sempre dei passi in avanti non fa mai passi indietro quindi no andremo avanti sarà sempre meno importante ma adesso per esempio gira un beta coronavirus l'HUK1 per esempio che è quello che se voi avete fatto caso quante persone hanno raffreddore tosse e febbricola magari la sera per 3, 4, 5 giorni ecco Allora questo professore è questo qui probabilmente è questo probabilmente è questo ma è normale cioè fa parte della vita nostra ormai anche anche questo qui di coronavirus nell'arco del tempo diventerà un raffreddore che ogni tanto qualcuno prenderà in maniera più forte meno forte dipende dal sistema immunitario no? come reagisce e io qui volevo venire professore al sistema immunitario c'è uno studio americano recentissimo pubblicato su Nature che è una delle massime autorità dove tra l'altro scrive anche lei degli articoli che avrebbe scoperto che il DNA è diverso da persona a persona lo sappiamo però ci sono determinati tipi di DNA che avendo fatti i vaccini sono proprio refrattari al covid hanno una barriera automatica che si crea nei confronti di questa patologia allora è vero è vero e questo fa parte del discorso che facevamo prima che ognuno di noi è diverso dall'altro dal punto di vista del sistema immunitario allora c'è chi addirittura si chiama non responder cioè proprio non risponde assolutamente al vaccino c'è chi invece al vaccino risponde con una produzione di anticorpi massiccia c'è chi li produce ma ne produce meno e questo guardate dipende sicuramente dalla genetica cioè il punto importante la spinta importante è il fattore genetico però anche il sesso e l'età incitono le persone più anziane sappiamo che hanno il sistema immunitario più debole le donne sono molto più forti a livello di sistema immunitario rispetto all'uomo insomma queste sono notorie ma c'è anche tutta la parte dei geni di istocompatibilità così chiamati HLA che poi sono quelli che si usano quando c'è il donatore ricevente di un organo per vedere se è compatibile o meno si studiano questi bene guardate studiando questi si è visto che c'è una variante di un tipo che fa in modo che reagisca molto bene producendo tantissimi anticorpi ce n'è un'altra variante che ce l'ha purtroppo reagisce molto di meno ma non per questo è un non risponde cioè il non risponde è quello che proprio assolutamente non reagisce beh io ho scoperto di essere un non risponde al vaccino per l'epadide B che feci all'epoca quindi eh sì io ero un non risponde cioè a me non mi aveva fatto proprio niente il vaccino come se non l'avessi fatto e ne feci tre dosi eh attenzione si facevano tre dosi all'epoca beh ho fatto poi un titolo anticorpale ma per mio eh come dire per il mio punto interrogativo per il mio scopolo per il mio sapere e quelli mi hanno detto tu non l'hai mai fatto il vaccino e ho detto beh veramente me l'avete fatto voi quindi allora ci avete messo qualcos'altro era un fake era un fake tenta professore per quanto riguardi i vaccini tranquillizziamo tutti coloro che sono all'ascolto in generale perché poi quello che viene detto ha la sua impronta sulla popolazione e questo è il valore dell'informazione allora i vaccini che ci saranno a settembre-ottobre quando ripartirà la campagna vaccinale per le influenze ci sarà anche il booster per il covid sono gli stessi cioè sono sempre quelli Pfizer moderna oppure c'è stato un aggiornamento con Arturo Giovanni tutte le varie varianti o ci sarà un aggiornamento o ci sarà no ci sarà l'aggiornamento questo è vero il buon Antonio ha centrato il problema lo farei io senza Antonio professore ma non lo so non lo so non lo so ma non lo so però l'ha centrato il problema allora Arturo va sempre insieme a Zoe e questa è una battuta banale che però me la trovate concedere quindi banale ma me la trovate concedere sono vaccinati e quindi professore mi scusi ho detto il buon Antonio ha cercato il problema assolutamente i vaccini vanno come dire tarati su quelle che sono le varianti per quanto riguarda il covid prevalente al momento in cui si costruisce il vaccino in questo caso avremo la BA5 tutte le sotto varianti di BA5 ora io non credo si possa prevedere quale sotto variante avremo in ottobre quando e come quale variante avremo in gennaio e quindi rifaremo lo stesso vaccino professore no no sarà un vaccino basato su BA5 con magari un qualche innesto di qualche variante che presumibilmente in quel momento sta girando è un po' come il discorso dell'influenza voi sapete che l'influenza si prende il ceppo base poi si fanno dei conti mediante un algoritmo e si pensa che il ceppo nuovo che potrebbe girare l'anno l'anno successivo è questo e allora si infila nel vaccino normalmente è sempre giusto l'algoritmo finora non ha non ha mai sbagliato insomma per cui non vedo però per il covid ma come mai ancora le case farmaceutiche non danno notizia perché in genere la Pfizer Moderna ha un bel battaggio pubblicitario per dirci stiamo lavorando adesso è tutto silente non mi prende bene qui ecco qua non mi prende bene allora io credo che sia una questione economica mi dispiace dirlo non l'ho mai detta questa cosa non sono mai entrato in questo tipo di argomenti però tempo fa l'amministratore del delegato che è una donna di Pfizer ha detto e questo lo sta facendo negli Stati Uniti poi non so se l'ha fatto è stata criticata o meno io devo aumentare di quattro volte il prezzo del vaccino perché io devo raggiungere nel 2023 lo stesso budget di soldi che ho raggiunto nel 2022 poiché saranno di meno le persone che si vaccineranno alzano il prezzo alzano il prezzo alzano il prezzo va bene però a parte il prezzo professore ma sarà un vaccino attualizzato con queste nuove varianti o alzano solo il prezzo no 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 il vaccino verrà attualizzato assolutamente altrimenti è come dare l'acqua fresca no sarà sicuramente su BA5 e non so quale sotto variante prenderanno la prevalente di quest'estate fai a capire qual è però insomma BA5 ci deve essere assolutamente perché guardate BA5 ma le dico questo tutti i lavori che noi abbiamo fatto e che abbiamo pubblicato anche Arturo è finito di scrivere adesso lo manderemo a pubblicare quello che ci ha fatto vedere è che tutte le varianti sotto varianti alla fine in termini di contagiosità in termini di letalità derivano da BA5 tutte Arturo deriva da Kraken e da Octus che sono due varianti che derivano da BA5 vedete è uno sciarpe una cascata un brodo di varianti quindi BA5 che è la parentale che è la mamma il papà chiamiamolo come vi pare e quello ci deve essere per forza senta ci saranno prevede le solite diatribe balletti che faranno i virologi a settembre fatelo non fatelo oppure stavolta sarete tutti d'accordo che dice quale previsioni fa perché tanto che lei sta nell'ambiente professore le sa le cose io in tre anni ne ho viste di cotte e di crude non so proprio più cosa dire perché no perché io dico ma a me mi sembra molto intelligente questo fatto e magari la settimana dopo questa intelligenza mi sparisce in uno schiocco di dita oppure il contrario pensavo che era poco in tempo invece è molto intelligente perché ha detto e ha fatto delle cose il problema qual è? il problema è che si legge molto e si studia poco il problema è che si fa poca ricerca perché non ci sono i soldi no perché non la vogliamo fare dicono sempre che non ci sono i fondi no professore? no ma guardate non ci sono i fondi il mio amico Tulio De Oliveira che è brasiliano tramiantato in Sudafrica e che ha messo su una sorveglianza genomica da un milione e passa di dollari un milione e passa di dollari è riconosciuta in tutto il mondo come probabilmente la numero uno nelle sorveglianze genomiche ha buggecato anche gli inglesi che l'avevano fatta a marzo del 2020 se vi ricordate no? prima di tirar fuori le loro varianti quindi Tulio è persona di grande intelligenza ha capito qual era il momento e chiaramente sta monitorando e tiene sotto controllo non solo il covid attenzione ma tutte le possibili epidemie ed eventuali pandemie da virus che girano in Africa quindi adesso ecco io qui voglio arrivare professore intanto mi ha molto preoccupato la notizia del laboratorio ha visto in questi giorni che ha sfuggito al controllo ma che vuol dire? ma che ha sfuggito al controllo significa che c'è stato qualcosa che non andava ma nei laboratori guardate che accade spesso il problema è che non deve accadere nei laboratori a livello di sicurezza 4 cioè il top il massimo ah no dove si lavora dove si lavora con Ebola dove si lavora con Marburg dove si lavora col covid per esempio ecco lì non deve assolutamente sfuggire è come possibile che ancora accadano queste cose professore è molto sospetta dal mio punto di vista è molto sospetta questa cosa ma sospetta dopo One e ci siamo portati una pandemia per due anni e mezzo quasi tre io non vorrei ricominciare con un'altra perché ogni tanto sento l'allerta di qualche virologo che dice attenzione le pandemie non sono finite ma beh ma questo è vero ma questo è vero lo sappiamo noi l'aspettiamo un'altra pandemia è ovvio non sappiamo quando perché la pandemia ma perché ma perché perché professore perché perché se fino a prima del covid abbiamo vissuto malissimamente perché adesso dobbiamo essere bersagliati da queste pandemie perché no Roberta no voi vi dimenticate 1979 quando gli americani in un grosso in un grosso convegno di malattie infettive dissero il capitolo malattie infettive è ormai chiuso abbiamo debellato le malattie infettive e l'anno dopo è arrivata la pandemia di HIV caspita ragazzi non ce lo dimentichiamo sapete qual è il fatto della pandemia la pandemia non ha una ciclicità non è regolare potremmo fare una media di 13 anni insomma più o meno ma non è non c'è regolarità e questo abbiamo capito io odio queste immagini del covid veramente nella mia mente evocano tante cose negative quindi appena le vedo mi ha un sussulto emotivo allora le volevo dire professore che questa è stata anche la settimana importantissima che l'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità per chi non dovesse sapere ha ricordato l'importanza delle vaccinazioni nel mondo ma di tutti i tipi per i bambini per le patologie per l'H per tutto ecco io vorrei che lei spendesse due parole in questo perché abbiamo 30 secondi poi dobbiamo chiudere il blocco vorrei in chiusura una sua riflessione su questa settimana dei vaccini che l'OMS ha voluto sottolineare giustamente allora i vaccini sono una sicurezza sono una prevenzione cosiddetta primaria in epidemiologia bene vi dico solo che dopo l'acqua potabile i vaccini sono quelli che hanno salvato più vite umane quindi se bisogna farlo un vaccino se il vaccino è sicuro attenzione deve essere sicuro ed efficace tutte e due altrimenti non si può fare ecco allora va fatto di vite ne abbiamo salvato tanto ricordiamoci al morbillo ricordiamoci alla polio ricordiamoci il vaiolo è stata la peste degli anni 60 come no signori ricordiamoci anche queste cose guardate dove non si arriva col vaccino si arriva con la terapia guardate l'HIV la terapia dell'HIV nei 30 anni è cambiata talmente tanto che le persone prima prendevano 10 pillole al giorno adesso ne prendono una si arriverà ad avere una cultura ogni tre mesi insomma la scienza va c'è stata un'evoluzione enorme bene professore la devo salutare perché il blocco è tassativo la ringrazio infinitamente grazie al professor Massimo Ciccozzi epidemiologo dell'università campus biomedico di Roma per averci dato tante spiegazioni appropriate e soprattutto averci illuminato su quello che sarà anche il futuro prossimo delle vaccinazioni grazie per essere stato con noi professore buona serata buona serata buona serata buona serata allora diamo la linea alla pubblicità e poi continuiamo con gli ospiti a Italia Città Aperta ce ne sono molti fino a mezzanotte e mezza grazie a tutti